Ciao a tutti i nostri amici Cino Funeci, questa è sempre il nostro canale tubo, ormai ci conoscerete oggi facciamo la recensione, anzi non facciamo proprio la recensione, parliamo un po' di questo Honor 8, è un telefono top della fascia Honor, Honor che è un marchio proprietario Huawei quindi un marchio prettamente dedicato alle vendite online, anche se ormai lo trovate anche nei grandi negozi, per esempio da 1 euro lo trovate, questo Honor 8 a 399 euro noi non l'abbiamo comprato da 1 euro perché siamo veramente cinofonici, l'abbiamo acquistato da Technistore che succede? Se lo comprate da un negozio cinese, Technistore, Gearbest, qualsiasi negozio cinese più o meno vi arriverà la versione di Honor 8 cinese e adesso parliamo proprio di tutte quante le differenze che sono con la versione europea, sono un po' diverse, adesso ne parliamo questo è nel frattempo ovviamente la scatola in cui è contenuto la prima differenza è ovviamente il caricabatterie che ha presa cinese, eccolo qua ma diciamo che è la parte più semplice questa della caricabatterie, mettete un adattatore e avete già risolto la parte più difficile ce l'abbiamo sul telefono non parlerei tanto del telefono, è un telefono ovviamente molto molto buono io lo sto usando, l'ho usato per molto tempo perché adesso vi dico che procedura ho dovuto fare anche se è in versione cinese riesci tranquillamente a utilizzarlo perché ha impostato il menu totalmente in lingua italiana, quindi tutte quante le impostazioni sono tutte quante in italiano c'è qualcosa che manca, sì, qualcosa che manca c'è e dovete installarlo voi perché in pratica come sapete i cinesi non usano Google e i servizi correlati a Google quindi voi dovrete andare a installare il Play Store, dovete installare Gmail e una volta installato questo poi potrete andare a installare tutte quante le app che volete direttamente dal Play Store che come vedete è totalmente localizzato in italiano quindi questo non è per niente cinese qualche problema ce l'avete sui contatti e sulla sincronizzazione con Google perché proprio non usa questo tipo di servizio qualche problema ce l'avete su alcuni menu per esempio ecco qua dal menu di sblocco il giorno della settimana compare questa scritta cinese se facciamo swipe in alto qui c'è il menu di scelta rapida anche qua vedete delle scritte cinesi in generale ecco qua mentre invece il menu questo qui è completamente localizzato in italiano in generale ci sono tante tante applicazioni che vanno a puntare su IP cinesi su server cinesi ecco qua per esempio il Vumal va sul Vumal cinese come vedete sarebbe il negozio di Honor lo store diciamo così se possiamo definirlo così ci sono tante tante applicazioni diciamo prettamente cinesi quindi che noi non useremo quasi mai vedete iVallet per il pagamento ci sono insomma tante tante cose che sono o inutili o ancor peggio diciamo non proprio tollerate da un utente italiano quindi l'esperienza di uso non è delle migliori cioè non è tanto buona quanto quella con una rom completamente europea completamente localizzata su paesi europei quindi che cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a flashare una rom europea come si flasha la rom europea è abbastanza facile flasharla il problema qual è il problema che questo dispositivo se andiamo su impostazioni infotelefono ecco qua ha un codice modello FRD AL00 quindi vuol dire che è un codice che identifica la versione del telefono quindi questa è una versione come abbiamo detto cinese e con questo numero modello noi non possiamo flashare nessuna rom che non sia cinese quindi prima di fare qualsiasi operazione dobbiamo andare a modificare proprio l'ID del prodotto quindi andare a debrandizzare farlo diventare da cinese a europea quindi una procedura un po' complicata perché innanzitutto dobbiamo sbloccare il bootloader per sbloccare il bootloader che dovete fare dovete andare sul sito Huawei registrarvi poi una volta che vi siete registrati dovete andare a inserire il vostro account Huawei qui nella nella apposita ecco qua nell'apposita ecco qua in questo momento inserito nell'apposita app che sarebbe una sorta di Play Store di Huawei inserite questo vostro vostro account e dovete tenerlo ecco qua il nello Huawei Club che oltretutto non è localizzato in italiano quindi esiste solamente in Cina questa applicazione questo applicativo in questo caso una volta che avete inserito il vostro account Huawei Huawei ID in questa app dovete tenerla sul telefono per 14 giorni quindi dopo 14 giorni potrete tramite il sito Huawei chiedere lo sblocco del bootloader cosa ci serve questo sblocco del bootloader ci serve per andare a debrandizzare il telefono e farlo diventare con ID europeo è una procedura molto molto complicata nel senso se siete proprio alle prime armi lasciate proprio stare perché non vale la pena anche perché noi abbiamo il prezzo intorno ai 360 euro quindi circa 40 euro di differenza con con la versione europea sinceramente vi dico forse è preferibile acquistarlo direttamente europeo però magari ci potrebbero essere delle offerte nei prossimi mesi potrebbe essere interessante una guida del genere oppure magari qualcuno l'ha comprato per comprarlo al day one l'ha comprato in versione cinese o cose del genere una volta sbloccato il bootloader il passo successivo che ci permetterà di installare una rom internazionale oppure come in questo caso la rom è basata su android 7.0 è quella di cambiare il seriale come abbiamo visto prima la nostra versione è la FRDA L00 che indica la versione cinese del Huawei Honor 8 però è possibile con qualche clic attraverso un apposito tool cambiare la denominazione del dispositivo e farlo diventare di fatto uguale a un dispositivo di quelli europei che viene venduto e commercializzato anche nel nostro paese per farlo non dobbiamo ricorrere a strumenti troppo difficili da utilizzare ma sul nostro forum inseriremo anche un tool facilmente utilizzabile che una volta riavviato nuovamente in modalità fast boot ci permetterà con qualche clic di cambiare il seriale del nostro Huawei Honor 8 e di farlo diventare a tutti gli effetti un dispositivo internazionale vi ricordo che questa procedura una volta effettuata richiede necessariamente il wipe quindi la cancellazione di tutti i dati personali sia che si riguardano applicazioni sia che siano foto, musica e video perché i dati criptati precedentemente con il vecchio modello dispositivo verranno in pratica corrotti e quindi necessitano di un wipe e di un'installazione pulita quindi se avete qualche file importante vi ricordo di effettuare un backup una volta sbloccata la versione del dispositivo e quindi aver cambiato il nome del dispositivo non ci troveremo a visualizzare la versione FRD L09 perché comunque stiamo montando ancora una ROM cinese ma visualizzeremo soltanto FRD basta andare quindi sul menu certificazione e se notiamo qui la scritta Serbia abbiamo la certezza di aver cambiato la denominazione del nostro dispositivo e quindi adesso abbiamo un FRD L09 a tutti gli effetti quindi un Huawei Honor 8 come quelli commercializzati in Europa arrivati a questo punto ci basterà soltanto installare una recovery personalizzata io vi consiglio ovviamente la Team Win Recovery Project che fa bene il suo lavoro e a questo punto potremmo installare in maniera semplice qualsiasi sistema moddato vogliamo in questo caso noi abbiamo montato sul nostro Huawei Honor 8 la ROM basata su Android 7.0 quindi Android Nougat che è stata distribuita qualche settimana fa ad alcuni fortunati utenti che sono stati scelti come beta tester dopo aver sottoscritto la loro volontà a partecipare al beta test organizzato da Huawei e nonostante questo siamo riusciti a contattare uno degli sviluppatori di Huawei che ci ha fornito i file da poter ridistribuire agli utenti che vogliono provare nonostante non abbiano sottoscritto la beta vogliono provare comunque la ROM in corso di sviluppo da parte di Huawei devo dire che questa ROM nonostante sia una beta si comporta già molto bene è una ROM davvero stabile con molti miglioramenti secondo me rispetto alla versione di Android Marshmallow primo fra tutti l'autonomia che migliora sostanzialmente con la versione di Nougat appunto di questo Huawei Honor 8 è un altro degli elementi fondamentali sulla stabilità di questa ROM che voglio portarvi all'attenzione è la velocità con cui questa EMUI è stata sviluppata perché è davvero molto veloce le applicazioni stanno davvero poco ad aprirsi e quindi sono molto soddisfatto del lavoro fatto su questa ROM nonostante sia ancora ad una fase preliminare che in teoria dovrebbe essere riservata soltanto a pochi beta tester per quanto riguarda gli aggiornamenti software non ho rilevato alcun aggiornamento via OTA da quando ho installato il sistema operativo sul mio Honor 8 però questo non so se è dovuto a una mancanza della ROM in quanto ancora è stato preliminare o se è dovuto unicamente al fatto che non sono stati ancora rilasciati aggiornamenti ai beta tester da parte di Huawei stessa per quanto riguarda invece le funzioni nuove che troviamo su questo Android Nougat quella che spicca forse più all'occhio è la possibilità attraverso la funzione app gemella di sdoppiare le nostre applicazioni a singolo account come ad esempio Whatsapp in modo tale da poter utilizzare e gestire due account di una stessa applicazione che normalmente non permetterebbe questa cosa questo si può fare con qualsiasi applicazione sia a singolo account ad esempio Whatsapp o ad esempio Facebook o ad esempio Facebook Messenger per quanto riguarda invece la fotocamera devo dire che ho rilevato qualche miglioramento non solo nella messa a fuoco della fotocamera stessa ma anche nella qualità fotografica che ne abbiamo delle foto questa foto ad esempio è stata scattata dal quinto piano e devo dire che nonostante sia molto lontano la fotocamera riesce a prendere buoni dettagli senza perdere troppa qualità nonostante sia con zoom al massimo discorso a parte va fatto invece per le prestazioni ho voluto per curiosità effettuare un test con il famoso benchmark AnTuTu e il risultato è all'incirca 94.000-95.000 in media e questo devo dire che è in linea con quelle che sono le prestazioni dell'onorotto anche su Android Marshmallow quindi non abbiamo un netto miglioramento dalla versione precedente a questa versione del sistema Google però devo dire che comunque si nota un certo miglioramento per quanto riguarda la gestione dell'interfaccia utente che risulta essere leggermente più veloce e quindi più fruibile da parte dell'utente stesso una cosa che mi ha dato fastidio invece di questa ROM è il trovare installati già diversi giochi diverse applicazioni che magari ritengo inutili che sono un surplus rispetto alle Google Apps che troviamo installate come ad esempio questi giochi che sono targati tutti i Gameloft però fortunatamente si possono facilmente disinstallare se non li vogliamo utilizzare per quanto riguarda la Suite Google invece troviamo praticamente tutte le applicazioni sviluppate dalla grande G tra cui Google Play Film che molti sicuramente non utilizzeranno però è comunque abbastanza utile queste applicazioni c'è da dire che sono di sistema e quindi non possono essere disinstallate ce le dovremmo tenere anche se non ne usufruiamo la mia considerazione generale di questo Huawei Honor 8 è sicuramente positiva ottime prestazioni, non si è mai bloccato la batteria ha davvero un'ottima durata ottimo invece il sensore di impronte che praticamente non sbaglia quasi mai sblocca davvero in un nanosecondo il nostro telefono è bella anche la possibilità di utilizzare il sensore di impronte come tasto fisico perché è un tasto fisico è la possibilità di customizzare quello che questo tasto fisico va a compiere come l'apertura di una certa applicazione oppure l'attivazione del flash LED per utilizzare il telefono come torcia e mi è piaciuta anche l'idea di utilizzare il dito swipando nel sensore di impronte per navigare tra le foto che ci troviamo in galleria quindi devo dire che su questa parte è stata molto molto attenta Huawei nella commercializzazione del suo Honor 8 per quanto riguarda invece quello che ho visto su Android Nougat perché ho usato davvero poco Android Marshmallow devo dire che le mie considerazioni sono molto positive mi è piaciuta questa nuova Emui che è molto personalizzabile possiamo scegliere dei temi sia per quanto riguarda i font sia per quanto riguarda le icone di ogni singola applicazione e devo dire quindi che sono rimasto soddisfatto sia dalla velocità con cui si muove questa beta di Emui 5.0 sia anche dalla libertà di personalizzazione che offre all'utente in generale il mio commento su questo smartphone è davvero positivo sia per quanto riguarda la parte hardware dello stesso che è sicuramente la top di gamma sia per quanto riguarda la parte estetica e costruttiva che è davvero al top per quanto riguarda dispositivi secondo me prodotti da Huawei ci troviamo di fronte infatti a un dispositivo sicuramente creato per la fascia alta e devo dire che questa attenzione nella scelta dei materiali nell'assemblaggio si fa davvero sentire quando lo utilizziamo tutti i giorni e devo dire che fa la sua bella figura anche confrontato con marche più costose che ci sono ad oggi nel mercato che dire di altro spero che il video vi sia piaciuto ricordatevi di fare attenzione se volete passare dalla versione cinese FRD AL00 alla versione internazionale perché questo invalida sia la garanzia e potrebbe portare al blocco del vostro dispositivo quindi state molto attenti quando eseguite questi passaggi e che dire di altro da Simone e da Cinafonina ci è tutto un saluto ciao